Oltre 400 nuclei familiari sulla Faenza che non sono riusciti ancora a rientrare nella propria abitazione ad un anno dall'alluvione. La Caritas della Diocesi di Faenza Modigliana nella propria ricerca dedicata all'alluvione stima che ancora una persona su quattro coinvolte negli allargamenti dello scorso anno attualmente non abita nella propria casa. Il 34% sono ospiti da parenti, il 26% da amici, il 25% è riuscito a trovare una nuova sistemazione in affitto. Chi aveva maggiori risorse ha comprato una nuova casa o vive nella propria seconda casa di proprietà. Chi non ha potuto contare su questa disponibilità oggi vive in spazi messi a disposizione da istituzioni o enti. La situazione a casa è ancora una situazione molto importante che necessita ancora di grande attenzione. Negli ultimi mesi sono state circa 80 gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, quindi gli appartamenti del comune che sono serviti per nuclei alluvionati o che fossero ospitati in hotel o che fossero in situazioni di emergenza abitativa appunto per poter dar risposta a questo bisogno. Gli hotel appunto non hanno più persone alluvionate al loro interno, quindi le due strutture che hanno accolto tante centinaia di famiglie in questi mesi, l'hotel Cavallino e il B&B, l'hotel diciamo dal casello dell'autostrada, oggi non ospitano più nuclei alluvionati a carico della pubblica amministrazione. È stato un lavoro molto importante per accompagnare queste persone che vivevano in una situazione di allenazione molto importante, in una camera d'albergo per diversi mesi. L'emergenza abitativa resta molto alta, sono oltre 400 i nuclei a faenza, solo a faenza, che ricevono ancora il contributo di autonoma sistemazione, quindi nuclei che abitano in un domicilio diverso da quello in cui abitavano prima di maggio 2023, quindi immaginiamo da amici, da parenti in seconde case, in case trovate in affitto. Quindi l'emergenza abitativa è un tema ancora molto caldo, noi abbiamo provato a fare il possibile insieme ad Acer per poter ripristinare quanti più appartamenti di vista residenziale pubblica, come diceva all'inizio. Abbiamo istituito l'agenzia per la casa che cerca di ammorbidire la rigidità del mercato immobiliare, stiamo facendo un lavoro molto importante con le agenzie immobiliari per cercare di lenire quello che resta ancora una ferita molto importante sul nostro territorio. Coloro che non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni, quali sono le richieste principali? Quella di trovare appartamenti in affitto soprattutto, c'è chi sta aspettando i ristori dello Stato per poter mettere mano alla propria abitazione, spesso un'abitazione di proprietà che oggi ha bisogno di decine di migliaia di euro per essere ripristinata, è importante quindi che venga snellita la burocrazia che possa permettere anche a chi non aveva risparmi da parte, decine di migliaia di risparmi da parte, di poter intervenire sulle proprie abitazioni e poi la richiesta è quella di trovare maggiore disponibilità nel mercato immobiliare sul tema degli affitti. Sappiamo bene che è una sfida molto importante in cui appunto le agenzie immobiliari ci stanno dando una grande mano. Cerchiamo, è un appello diciamo così, chiunque abbia a disposizione un proprio immobile di poterlo mettere a disposizione.